L'ondata di caldo che da più giorni interessa la nostra regione è giunta ormai al termine. Oggi, martedì 13 luglio, registreremo ancora valori di temperatura molto elevati. Probabilmente si toccheranno i 35-36 gradi centigradi nelle aree interne nel corso del pomeriggio. Ma già da questa sera la circolazione tenderà a mutare con l'inserimento di correnti occidentali che, oltre a determinare una consistente diminuzione delle temperature, abbatterà anche il tasso di umidità rendendo quindi l'area più respirabile. Diciamo che le conseguenze le avvertiremo maggiormente nella giornata di domani quando i valori di temperatura tenderanno a rientrare nelle medie del periodo. Non avremo ancora grossi cambiamenti a livello di precipitazioni per cui il cielo domani si presenterà sereno o poco nuvoloso con addensamenti nelle aree interne. Avremo solo la probabilità di qualche piovasco lungo la dorsale appenninica. Questo perché si avvicinerà una circolazione depressionaria dalla Francia che poi ci interesserà più direttamente nel corso di questo fine settimana con precipitazioni probabilmente anche a carattere di rovescio temporalesco. Ma di questo ne riparlerò durante l'intervento di venerdì prossimo. Intanto per domani ci attendiamo una consistente diminuzione delle temperature e probabilmente tra giovedì e venerdì i valori termici potrebbero risultare anche lievemente al di sotto della media del periodo con una ventilazione tra debole e moderata occidentale. Bene, termino qui. Come sempre invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Medio Cilento. Da Giuseppe Stabile è tutto, una buona giornata.